Ristretto Italiano, le news dal mondo sull'Italia. Buongiorno, buongiorno a tutti, rieccomi qua, incurante del detto che vorrebbe che di Venere e di Marte non si torna e non si parte. Eccomi quindi di ritorno al microfono di questo nostro podcast che è tanto cresciuto negli anni. Cresciuto al punto che è stato bellissimo trovare l'affetto degli amici, di due amiche in questo caso, che si sono dichiarate disponibili a darmi la staffetta fino a che non avessi ritrovato la voce. Perché si sa che quando il virus porta la corona, la voce ti abbandona. Scherzi a parte, grazie ad Anna Simona, grazie a Paola, si ricomincia. In prima pagina in Italia, il respiro di sollievo per i tassi BCE rimasti invariati, le indagini sull'assassinio di Fiorenza Arancillo, la ricca ereditiera che potrebbe essere stata uccisa dal figlio, e per la politica l'apertura a Roma della festa di Atreio, con l'attesa dei grandi ospiti da Elon Musk al premier inglese Richie Sonac al leader dell'ultradestra spagnola Santiago Abascal. Una manifestazione, la prima da forza di governo dopo un anno dall'insediamento, sulla quale però piove una tegola politica non da poco, come lo stop impresso al progetto albanese di esternalizzazione dei richiedenti asilo, argomento col quale passiamo al ristretto italiano vero e proprio. Comincio quindi con BBC, che titola La Corte sospende il piano italiano di trattenere i migranti in Albania. La Corte è la Corte Costituzionale di Tirana, che sospetta una violazione della Costituzione riguardo l'accordo di costruire due centri nel nord dell'Albania per trattenere 36.000 persone tra coloro che sperano di entrare in Europa attraverso l'Italia ogni anno. I centri sarebbero pagati dal governo italiano e soggetti alla legge italiana, come Guantanamo per gli USA, se ricordate, e fuori a garantire la sicurezza alla polizia albanese. Quindi per ora nulla, i tempi si fanno lunghi e la speranza di renderli operativi a primavera si allontana. E tutto questo, tra l'altro, mentre il premier inglese sta arrivando a Roma dalla Melodi ad Atreiu, del bel mezzo delle polemiche politiche che lui sta affrontando in patria per la vicenda analoga che gli è stata recentemente bloccata dalla sua Corte sull'esternalizzazione in Rwanda. Anche Euractiv dedica un servizio alla vicenda sotto il titolo L'Albania sospende l'accordo migratorio con l'Italia. Scrive la redazione paneuropea che l'accordo sarebbe in violazione di più di un trattato internazionale e andrebbe oltre al semplice patto di collaborazione fra due governi. Di fatto, l'Albania rinuncerebbe alla sovranità su una parte del proprio territorio. La ratifica precisa Euractiv è sospesa fino al 6 di marzo. In Italia, chi inizia a lavorare adesso andrà in pensione a 71 anni dati Ocse. Il titolo che arriva dalla Bulgaria è di agenzia Nova ed è basato appunto sul recente rapporto Ocse sulle pensioni. E anche dalla Bulgaria hanno notato che 71 anni in Italia sono davvero tantini anche se fra 50 anni. Ricordando che a partire dallo scorso gennaio di quest'anno, del 2023, l'età legale per andare in pensione in Italia è di 67 anni, questo per effetto delle misure di Roma adottate durante la pesantissima crisi del 2011, l'articolo precisa che tuttavia diverse categorie di lavoratori sono ancora in grado di accedere al pensionamento anticipato. Ancora nel 2022 l'età media per lasciare il lavoro in Italia era di 62 anni e mezzo rispetto ai 63,8 della media europea. E per quanto riguarda i 71 anni previsti per chi comincia a lavorare adesso a 22 anni, quindi tra 50 anni, l'articolo precisa che, se il dato è preciso, saremo secondi in questo primato solo dopo la Dalimarca. Evviva! Cambiando argomento, è palpabile nel mondo la prensione per la salute di Patti Smith. Moltissimi gli articoli esteri che parlano del malore che l'ha accolta a Bologna poco prima di salire sul palco. Racconta il Guardian in un articolo dal titolo Patti Smith in buona salute dopo essere stata ricoverata in ospedale in Italia che la cantante, anche se l'episodio non è stato grave, ha dovuto cancellare il resto delle date qui da noi. Patti Smith è già uscita dall'ospedale dopo una serie di accertamenti. Prima di Bologna aveva emozionato il suo pubblico esibendosi nel Duomo di Modena, nella cattedrale di Siena, nel centro storico di Matera ed è stato proprio a Matera. In questa città, scelta più volte come set della Gerusalemme storica per la sua somiglianza, che la Smith ha invocato il cessate il fuoco per Gaza. C'è una notizia di archeologia che da giorni trovo sulle diverse testate internazionali che abitualmente sfoglio e oggi è arrivato il momento di parlarne anche a ristretto italiano. La prendo dal turco Kumuriet ed è sull'antica casa di lusso di duemila anni decorata con mosaici unici trovati a Roma. Situata nell'area del Foro Romano al Palatino, vicino al Colosseo per intenderci, questa casa super VIP fu edificata a cavallo tra il secondo e il primo secolo a.C. Costruita su più piani attorno ad un cortile, la casa ha una sala per banchetti a forma di grotta e tubi di piombo inseriti fra le pareti che probabilmente erano utilizzati per gli spettacoli acquatici. E la cosa che rende davvero eccezionale questa scoperta sono dei sorprendenti mosaici rustici sulle pareti, realizzati con tessere, conchiglie, vetri preziosi, marmi, sono stati descritti come unici in termini di cronologia e complessità delle scene che raffigurano. La convinzione è che la lussuosa abitazione appartenesse a un nobile, probabilmente un senatore, e tra le scene raffigurate sulle pareti ci sono tre grandi navi dirette verso la città costiera e si ritiene che il riferimento fosse a una battaglia vinta dal proprietario della casa. Per le numerose altre informazioni contenute in quest'articolo vi consiglio di seguire il link che assieme a quelli di tutti gli altri articoli che vi citiamo nel nostro ristretto è pubblicato sulla newsletter di questa mattina. Niente paura se non conoscete il turco perché tanti browser hanno incorporato il traduttore automatico, beata intelligenza artificiale, e niente paura se non avete la newsletter. Il modulo per iscrivervi lo trovate sulla home page del mio sito ruggeropo.it e sulla pagina facebook della community di Ristretto Italiano. E poi, se siete così poco avvisi, mandateci una mail a ristretto.italiano chiocciola ruggeropo tuttoattaccato.it dicendo che desiderate ricevere la newsletter e noi ve la manderemo. Chiudo con un grido di dolore. Quello che arriva da Slipper Desk, che il sito web è considerato il numero uno nella musica classica mondiale che titola L'Italia ormai è il malato della musica. Il paese che si vanta di essere una delle principali fonti di musica, il paese di Puccini, di Toscanini, di Rossini, di Verdi, ha ormai meno concerti nelle città più grandi di quanti ne abbiano i centri più remoti della Scandinavia. Per non parlare del rapporto impietoso tra Roma e Milano da una parte e Parigi e Londra dall'altra. Una città come Lucca, per esempio, 90 abitanti nel cuore della meravigliosa Toscana, Lucca, la città di Puccini, di Catalani, di Boccherini, tra novembre 2023 e giugno 2024 ha programmato solo sei spettacoli di musica classica e gli va di lusso a Udine e centomila abitanti, due concerti in tutto nei prossimi otto mesi. E il problema, conclude la denuncia di Sleped Disc, è un'altra faccia del fallimento del sistema educativo. L'hanno capito pure all'estero di come siamo messi sul sistema educativo in Italia. Io qui mi fermo. Ce l'ho fatta, siamo arrivati fino qua, la voce, diciamo, è sostanzialmente tornata. Vi aspetto domani, vi auguro una buona giornata. Ristretto Italiano di Ruggero Po